Quanto incide il volontariato nella prevenzione in protezione civile? Il volontariato ormai è insostituibile anche in questa nuova attività, finalmente è passato il concetto che la prevenzione non si fa solo con opere strutturali ma si fa anche con i cittadini, ovvero c'è un protagonismo dei cittadini nell'essere più sicuri e il volontariato credo sia l'unico soggetto capace di dialogare sia con le istituzioni che con i cittadini facendo questo collegamento fondamentale, ovviamente è un nuovo settore di intervento che va fatto con grande attenzione, con grande capacità perché informare significa anche informare bene ma non si tratta, e questa è la vera arma del volontariato, non solo informare in quanto porti della propria credibilità ma anche riuscire a fare qualcosa in più, dare un'informazione e poi coinvolgere per stimolare e tirare in cuore questo protagonismo dei cittadini perché l'Italia più sicura si fa soltanto se ognuno fa la propria parte e se ne sente in qualche modo orgoglioso e il volontariato su questo mi sembra una bandiera più che efficace.